L'introduzione di nuove modalità di valutazione delle evidenze scientifiche da parte degli enti regolatori rappresenta un traguardo, un obiettivo sicuramente auspicato da molti di noi negli ultimi anni e la opportunità di iniziare una discussione all'interno di un ente regolatorio tanto prestigioso come l'ente regolatorio europeo è un'opportunità importantissima non solo per il mondo della ricerca e dell'industria ma anche e soprattutto per i nostri pazienti perché sembra che possiamo superare quella rigidità che negli anni scorsi ha visto addirittura gli enti regolatori entrare nella definizione della linea di trattamento in funzione delle evidenze dimostrate in un singolo studio modificando sostanzialmente anche non solo la disponibilità di questo o quel farmaco ma consentendola solamente in un momento della storia del paziente che a volte non coincideva con quello che era poi la necessità clinica. La apertura e la richiesta di discussione sul tema della valutazione degli studi a singolo braccio rappresenta sicuramente uno dei tanti esempi che mi auguro che l'agenzia vorrà portare alla discussione pubblica proprio per renderci conto di come sta cambiando anche il mondo regolatorio e sta cambiando da un lato perché aumentano in maniera rapidissima le nostre conoscenze scientifiche a cui si associa una altrettanto rapida evoluzione delle nostre conoscenze di trattamento dei pazienti rendendo pressoché impossibile la pianificazione di studi randomizzati sempre e solo come unica soluzione e come unica risposta alle necessità di valutazione dei trattamenti. Dovremmo trovare modalità sicuramente più snelle, dovremmo trovare modalità che garantiscano i pazienti non solo dal punto di vista dell'efficacia ma anche della tollerabilità e della tossicità ma con una procedura che può a volte non ricalcare pedisseguamente quello che abbiamo fatto in passato quando i farmaci erano pochi e gli studi potevano essere condotti con molta più semplicità. I dati derivanti da studi a braccio singolo ovviamente presentano alcune importanti criticità dalla selezione dei pazienti, alle caratteristiche dei pazienti che vengono arruolati, dalle opportunità di terapie alternative, dalla valutazione degli end point, dalla indicazione di quali sono i livelli di soglia per determinarne l'efficacia visto che non abbiamo un braccio di controllo randomizzato col quale confrontare i risultati che abbiamo avuto nel nostro campione di pazienti. Quindi sicuramente hanno necessità di essere accompagnati dal maggior numero di informazioni possibili rispetto a quello che attualmente viene attuato. Sicuramente i dati derivanti dalla esperienza clinica quotidiana hanno rappresentato in molti studi un aspetto importantissimo nel guidare e modificare la pratica clinica. Abbiamo avuto alcuni effetti collaterali che non erano così presenti negli studi clinici randomizzati, svolti su gruppi di pazienti estremamente selezionati che sono invece comparsi sulla valutazione di popolazioni molto più ampie di soggetti, inclusi nello studio, come d'altra parte abbiamo avuto una valutazione in riduzione di alcuni effetti collaterali con una migliore efficacia nella pratica clinica perché dopo gli studi clinici registrativi anche i diversi centri oncologici hanno imparato a gestire meglio questi effetti collaterali e a essere proattivi nella gestione di alcune tossicità. Quindi sicuramente una parte importantissima quella di riuscire a riconoscere meglio quelle che sono le caratteristiche generali dei nostri pazienti anche in un contesto di vita reale. Ma per fare tutto questo in maniera corretta chiaramente non dobbiamo lasciarci guidare dall'improvvisazione, non dobbiamo pensare che ogni qualvolta il clinico ha un dubbio, ha una domanda e si pone un problema scientifico o clinico di rilevante importanza andando a scartabellare nelle cartelle cliniche di diversi centri e raccogliendo informazioni di varia natura si riesca a fornire dati di qualità elevata. Ecco allora che interviene un momento fondamentale. I real world data sicuramente sì, ma per acquisire informazioni di qualità dobbiamo prepararci. Non possiamo pensare di arrivare a definire la validità di un trattamento basato su uno studio a braccio singolo raccogliendo retrospettivamente altre informazioni che derivano dalla esperienza di quel trattamento eventualmente autorizzato oppure di quel trattamento che viene condotto a supporto dello studio a braccio singolo, uno studio allargato di disponibilità del farmaco secondo diverse modalità di accesso e pensare poi che questi dati siano dati tucur che rappresentano e che sono caratterizzati da un elevato livello di qualità. Ed ecco quindi che diviene importantissimo lo sforzo che in molte istituzioni di prestigio a livello internazionale ma anche nel nostro paese si sta attuando nei confronti del cosiddetto data le caos, quindi della possibilità di raccogliere in maniera prospettica tutte le informazioni cliniche che riguardano i singoli pazienti non sotto forma di una risposta in pdf ma come dati sorgenti e questo va dai dati d'ICOM della radiologia ai dati formati di alta risoluzione di immagini ad esempio di patologie che possono essere documentate fotograficamente come quelle cutanee o la profilazione genomica e quindi i dati intermedi non solo l'indicazione di quale sia la mutazione che il medico ha deciso di trattare con un farmaco avversario molecolare ma quante più informazioni possibili perché tutto questo potrà consentire poi non solo di integrare le informazioni in una maniera coerente perché avremo informazioni raccolte prospetticamente di elevata qualità e soprattutto con standard condivisibili a livello non solo nazionale ma anche internazionale e consentirà la valutazione di tutti quegli effetti interferenti e direi che diviene a mio avviso molto più importante studiare i motivi di resistenza piuttosto che i motivi per cui il paziente risponde per cercare quali sono le possibili interazioni tra l'ambiente esterno quindi tutto quello che viene definito come l'esposoma rispetto al nostro trattamento perché troppo spesso soprattutto con gli studi a braccio singolo ci focalizziamo unicamente sull'attività di quel farmaco in quella specifica condizione caratterizzata da un punto di vista biologico da specifiche caratteristiche dimenticando che poi intorno a questo c'è un paziente che assume altri farmaci ricordiamo come l'interazione tra farmaci determina a volte una riduzione del tempo di controllo della malattia di oltre sei mesi in alcuni pazienti anche può arrivare ad un anno e questo non perché il farmaco non sia efficace ma perché il paziente a causa di altre patologie concomitanti sta assumendo altri farmaci che rendono l'azione del farmaco principale meno attiva quindi in questo mondo di interazioni ancora totalmente inesplorata e per le quali abbiamo necessità di trovare strumenti non solo statistici ma anche informatici di analisi di dati così ampi e numerosi diviene un elemento fondamentale quello di riuscire ad associare sì dati di real world evidence alla ricerca su studi a braccio singolo come in tanti altri campi della ricerca oncologica ma soprattutto deve essere tutto questo fatto in maniera programmata e strutturata rigidamente attraverso la costituzione di data dei caos in questo un'iniziativa parlamentare recente che sta valutando la modalità di modificare ad esempio l'uso secondario dei dati che nel nostro paese viene di fatto inibito in qualunque struttura assistenziale perché non c'è un consenso specifico per quel tipo di utilizzo dovrà quanto prima essere reso disponibile al Parlamento per una discussione ampia e per una sua eventuale approvazione perché senza questo strumento tutto quello di cui parliamo è solamente una ipotesi di lavoro oppure con una punta di invidia quanto stanno realizzando i colleghi in altri paesi anche europei dove la lettura del GDPR sulla privacy sicuramente non è stato così rigido e così costrittivo come nel nostro paese Gli obiettivi che dobbiamo utilizzare nell'ambito di uno studio clinico che poi sia a singolo braccio o no, questo lo vedremo tra un attimo, sono sicuramente quelli che riguardano la capacità del nostro trattamento di modificare l'evoluzione della malattia rispetto ad altri trattamenti o rispetto a quello che noi conosciamo essere la storia naturale di quella patologia ma soprattutto avere anche informazioni sulla qualità della vita dei nostri pazienti cioè su quanto questo trattamento interferisca, ci auguriamo positivamente, su quello che sono gli effetti collaterali le tossicità e comunque le limitazioni, quindi quello che ci chiediamo è che un trattamento sia attivo contro il tumore e rispetto il nostro paziente. I due strumenti per misurare questo tipo di risultati riguardano da un lato gli strumenti di valutazione di un endpoint, sia esso la sopravvivenza globale, il tempo libero da progressione o tutte le diverse declinazioni che sono state effettuate, direi che negli studi a braccio singolo forse la landmark analysis, quindi la valutazione del controllo di malattia misurato, vedremo poi nelle diverse patologie, nelle diverse condizioni cliniche, quale endpoint vogliamo utilizzare venga valutato non in un singolo punto della curva ma nella sua evoluzione complessiva e come tutto questo sia da associare ad una valutazione strutturata di quelli che sono gli effetti collaterali per come vengono vissuti dai pazienti, i cosiddetti patient reported outcomes, quindi i PROS. Questo è un elemento fondamentale che per troppi anni è stato abbandonato, ritenendolo troppo difficile da acquisire e con un tasso di adesione da parte dei pazienti veramente altissimo, tanto da rendere questi dati in genere scarsamente significativi. Direi che è molto semplice ottenere una maggiore collaborazione dei centri e anche dei pazienti su questo obiettivo perché è sufficiente che noi introduciamo la valutazione dei PROS come un criterio di inclusione nello studio e come possiamo analizzare i PROS analogamente a come analizziamo una TAC o una risonanza o degli esami del sangue a periodi ben scanditi nel corso dello studio, possiamo introdurre anche queste valutazioni che non perché derivano direttamente dal paziente e non da una macchina sono meno importanti perché ricordiamoci che questo è proprio quello che rappresenta e che dà il maggiore rilievo poi alla qualità della vita e alla tollerabilità dei trattamenti che in genere si accompagna anche a vantaggi in termini di risorse complessive. Quindi questi due obiettivi sono alla nostra portata e sono sicuramente facilmente raggiungibili se ci dotiamo ancora una volta e qui ritorniamo a quanto abbiamo detto poco fa di strumenti di raccolta prospettica delle informazioni che consentano una semplice acquisizione di queste informazioni. Oggi grazie alle modalità che sia i telefoni di ultima generazione consentono che la possibilità di moltissimi pazienti anche non più giovanissimi di utilizzare strumenti informatici può essere utile. Ricordiamoci che molti di questi strumenti che valutano i BROS sono in grado di valutare in automatico per esempio alcune misurazioni cliniche che vengono fatte da strumenti che siano in grado di collegarsi via bluetooth via wifi con la piattaforma presente sul telefono del paziente e come possiamo acquisire un'enormità di informazioni su quanto il paziente si muove su qual è il suo grado di forza fisica quali sono gli atti del respiro come si modifica tutta la suo stato di salute nel corso della giornata. Ancora una volta avremo milioni o miliardi di informazioni a livello internazionale da gestire ancora una volta dobbiamo dotarci preventivamente di strumenti in grado di raccogliere in maniera prospettica questi dati per poterli utilizzare e accompagnarli a quello che diviene un momento della valutazione del percorso soprattutto in oncologia sappiamo che alcuni farmaci sono stati approvati o è stata presentata domanda di approvazione anche con uno studio a braccio singolo ma proprio per questo ci ricordiamo quanto è importante accompagnare queste informazioni di uno studio strutturato con quella che è l'esperienza del paziente quindi ancora una volta questi elementi si integrano e si confondono tra loro in un percorso che deve essere guidato deve essere strutturato ma che rappresenta rispetto alla rigidità di studi di fase 3 randomizzati che pure rappresentano il nostro gold standard e che pure rappresentano un elemento che per molti anni presumo sarà ancora imprescindibile nella valutazione di alcune specifiche attività farmacologiche e questo soprattutto in oncologia tenga conto di questa nostra capacità di integrare informazioni diverse torno a dire proprio per spiegare i motivi di resistenza proprio per spiegare i motivi del fallimento alcuni intrinseci al tumore al meccanismo per l'immuovazione di questi farmaci altri derivanti da fattori esterni basti pensare alle interazioni tra antibiotici o inibitori di pompa protonica e le sue modificazioni sul microbiota con la ridotta responsività ad alcuni protocolli di immunoterapia per capire come molte risorse che non che vengono utilizzate per questi trattamenti poi non trovano una loro giustificazione non perché il farmaco non è attivo non perché la malattia del paziente non avrebbe risposto se noi avessimo riconosciuto prima alcune interazioni importanti che devono essere documentate su larghe popolazioni ed ecco quindi che il cambiamento non deve essere solo nella ricerca biologica nella ricerca clinica il cambiamento deve essere anche accompagnato da una nuova modalità di acquisizione delle informazioni e in questo gli antiregolatori avranno una maggiore semplicità per acquisire e comprendere come questi dati possano rappresentare una risposta ai bisogni di salute della nostra popolazione grazie a tutti